E' stata inaugurata oggi al parco scolastico delle scuole pubbliche di Valle Crosi in via San Rocco la nuova palestra comunale. Alla presenza del sindaco Ferdinando Giordano e dell'assessore regionale Marco Scaiola, il primo cittadino era accompagnato dall'amministrazione comunale e dalla presenza del consiglio comunale dei ragazzi, delle autorità scolastiche, civili e militari. Si tratta di una grande struttura tensostatica, moderna e ben attrezzata, costata oltre mezzo milione di euro, di cui 125 mila di fondi comunali, gli altri ottenuti tramite la regione Liguria con finanziamenti mutui bei e fondi par FSC. Il commento del sindaco di Valle Crosi, Ferdinando Giordano. Il mio commento non può essere più che altro di felicitazioni, proprio perché ha portato a compimento un'attrezzatura che serve tantissimo per il mondo della scuola, in quanto oggi praticava attività genico-sportive in poco più di un camerone e invece in questo caso una vera e propria palestra. Oltretutto questa palestra nasce con un ampio finanziamento regionale di oltre 300 mila euro e questo ha comportato anche un impegno di essere una palestra aperta al pubblico nelle attività extrascolastiche e nel periodo extrascolastico proprio per delle attività genico-sportive. Complessivamente quanto è costata la palestra? La palestra è costata complessivamente, posso dire la cifra precisa, sull'ordine dei 515 mila euro, di cui in un primo finanziamento di 65 mila euro della regione con un altrettanto contributo di 65 mila euro, per un totale di 130 mila euro, è stato il primo lotto dei lavori, finanziato dalla precedente giunta regionale con fondi par-fas. Poi il subentro della nuova amministrazione regionale ha comportato un completamento di finanziamento di 385 mila euro, di cui 325 mila della regione ancora. Quindi il Comune di Vallecrosi ha messo 125 mila euro in totale su questa opera a fronte di un investimento complessivo di 515 mila. È stato un lavoro lungo, ci sono stati dei rallentamenti ma alla fine si è arrivati a compimento? Sì, il lavoro è stato lungo anche perché poteva essere svolto solo nel periodo estivo, perché non si poteva pensare di gestire un cantiere in termini di sicurezza nei nove mesi dell'attività scolastica. Quindi si è protratto per due estati successive portando a termine nel primo anno tutte le installazioni vere e proprie, strutturali edili e nella seconda estate, quindi questa ultima, la parte relativa all'impiantistica, alle attrezzature, alla componentistica sportiva, formazione di pavimentazione, linee elettriche, e fornitura del gas per le dotazioni infrastrutturali. Anche il consigliere regionale Marco Scaiola è entusiasta per la nuova palestra che servirà per i giovani di Vallecrosi. Sicuramente ogni qualvolta si inaugura una palestra, una scuola nuova, sono soddisfazioni per tutti gli amministratori, in primis per i cittadini. Questa è una bella palestra, una palestra che ha cominciato il suo iter con la precedente amministrazione regionale. Noi quando ci siamo insediati nel 2015 abbiamo preso in mano la pratica e nel dicembre 2015 abbiamo firmato il finanziamento di più di 300 mila euro proprio per la realizzazione di questa palestra che vede un totale di 500 mila euro. Bene ha fatto il comune di Vallecrosi a fare la sua parte, quindi una giornata di festa. Una giornata di festa per una realizzazione di un'opera pubblica importante molto attesa dal territorio, soldi pubblici ben spesi e li possiamo vedere davanti ai nostri occhi. I nostri ragazzi, tanti ragazzi delle scuole non solo potranno utilizzarla, quindi credo che sia un bel passo in avanti per Vallecrosi a per tutto il nostro comprensorio dell'estremo ponente che vede la necessità di realizzare queste strutture e vede anche la necessità di mettere in sicurezza e di intervenire su tante scuole che hanno ancora bisogno di vedere un intervento strutturale importante.